ciao 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 come stai spero tutto molto bene oggi sono qui ho pensato di girare questo video più o meno dieci minuti fa per portarvi portarti una tipologia di video che non ho mai portato sul canale che è quella della spesa sono rientrate infatti una ventina di minuti fa da anticoità che ho sotto casa per fortuna e per sfortuna delle mie finanze dove ho acquistato alcune cose che mi servivano fa caldissimo ragazzi sto sudando e tra l'altro ho sul fuoco io sono in un angolo della cucina sala da pranzo ho sul fuoco le lenticchie fa caldo ma io non temo i legumi in estate anche perché in quanto vegana o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra allora scusate mi sposto un attimo perché le gambe accavallate non si può stare in estate perché sto sudando ok la pelle grassa tutta una serie di cose allora sono andata ad acquistare alcune cose per me e per il mio compagno e per la settimana in montagna che faremo la prossima settimana oggi è giovedì probabilmente vedrete questo video oggi stesso e appunto la prossima settimana andremo in palmaira quindi in piemonte in provincia di cuneo se non erro staremo lì tutta tutta la settimana a prenderci il fresco a prenderci i temporali sparsi a fare escursioni e non vedo l'ora perché aspetto questo momento da mesi veramente da mesi ho bisogno di riposarmi un attimo e di stare soprattutto soprattutto a contatto stretto con la natura e probabilmente un giorno farò un video rispetto a quanto io stia cambiando relativamente al mondo che mi circonda ma questo è un altro discorso poi magari lo affrontiamo vi faccio quindi vedere il sacchetto che è un sacchetto in realtà del gonad ma tant'è di quelle borsine che si ripongono e quindi io la tengo sempre in borsa e la utilizzo allora ho lo scontrino io non vi dirò i prezzi di nulla perché quando li guardo quando guardo queste tipologie di video e vedo i prezzi sento i prezzi e devo dire che non mi interessano e soprattutto perderei tanto tempo a ricercare all'interno dello scontrino il prezzo del prodotto e ad ogni modo se trovo lo scontrino vi dico semplicemente quanto speso e facciamo qualche suono cosa sono questi cringles sounds? io non ne ho idea faccio questi video io mi trovo qui per sbaglio allora ho speso 33 euro e 11 centesimi sarebbero stati molti di più se mi fossi lasciata a bindolare dal reparto makeup ma sto cercando davvero di non fare acquisti non necessari se sentite parlare fuori è perché vi ho detto tante volte che sotto casa c'è un parco e ci sono in questo momento i giardinieri che si stanno occupando di falciare l'erba quindi io mi auguro in realtà che non riprendano adesso a lavorare allora iniziamo subito con l'unico prodotto che avevo tirato fuori che sono questi panni in microfibra oh mamma mia stanno passando un sacco di macchine sono questi panni in microfibra della fileta io li utilizzo per la cucina quindi per il piano cottura e asciugare il lavandino in generale quello della cucina lo utilizzo per appunto l'ambiente cucina e poi ne utilizzo un altro per il bagno quindi con la spugna pulisco i sanitari poi li insapono e poi li sciacquo per bene con questa con la microfibra ben strizzata ci passo ovviamente più volte per togliere il prodotto io questi qua li amo di base sono molto cari però li ho trovati in offerta quindi sono stata molto contenta perché mi servivano effettivamente li avevo finiti e devo cambiare quello della cucina di solito è questo rosa però secondo me ne userò un altro per cambiare poi questa era l'unica cosa per la casa poi ho comprato il deodorante io non riesco mai a mettere a fuoco perché sono completamente fuori fuoco ok vediamo no vabbè ma che ci importa è il deodorante Nivea Man per il mio compagno stamattina gli ho detto se gli servisse qualcosa e mi ha indicato questo prodotto e un altro che adesso vi mostro dopo di che sempre al mio compagno ho preso questa crema dopo rasatura per la testa non lo so non lo so ragazzi vabbè comunque di fitorelax e crema post rasatura per il cuoio capelluto il mio compagno ha perso tutti i capelli che aveva tutti i ricci e adesso li toglie con la lametta per perché non gli piace l'effetto un po' stempiato io sono d'accordo e quindi dopo la rasatura mette questa crema che odora tantissimo di sandalo e si sente da qua è molto buona e poi fitorelax comunque è sempre una marca molto seria anche rispetto agli inci e tutte queste robe qua poi ho preso gli assorbenti io utilizzo quelli in cotone le marche non mi interessano diciamo che vado a e in questo momento c'erano questi qui di laurella io ci sto provando con tutte le mie forze no? siamo tutti fuori fuoco oggi vabbè e comunque l'importante per me che siano di cotone gli assorbenti perché non mi va di avere a contatto insomma con le parti intime dei tessuti insomma sintetici quindi li preferisco dopo di che ho acquistato ecco l'unico pezzo l'unica e cosa non necessaria che ho comprato cercando comunque di mantenermi in passa sul prezzo è stato questo profumo di nulla di tesori d'oriente questo qui è vaniglia e zenzero del Madagascar allora è molto speziato io sento tantissimo la nota puggente dello zenzero cosa che secondo me rende questo profumo adatto anche per questa stagione estiva perché appunto lo zenzero essendo speziata e poi io bevo anche dei cocktail a base di zenzero quindi proprio mi fa pensare al periodo estivo perché è l'unico momento dell'anno in cui bevo qualche cocktail nell'estate quindi ne spruzzo un po' fosse stato un profumo solo a base di vaniglia probabilmente lo avrei trovato più adatto alla stagione infernale c'è stato un taglio in questa parte qua perché ho dovuto aggiungere un po' di acqua alle lenticchie quindi dicevo che la componente zenzero secondo me alleggerisce di tanto la vaniglia quindi credo sia portabile anche in estate in ogni caso lo proverò in questi giorni e poi o lo userò o continuerò ad usarlo in questa stagione oppure aspetterò qualche mese insomma poi ho acquistato questo shampoo di fructis senza silicone aloe idra bomb shampoo idratante per capelli disidratato disidratati con gel di aloe vera e acido ialuronico ho le unghie cortissime si stanno riprendendo dal semi permanente devastante che ho fatto da sola e che non ho mai tolto perché appunto non volevo indebolire le unghie di più e quindi sono così ma tanto non si vede nulla quindi poi fazzoletti di cartacalla marchio immagino del ticotà in realtà io non uso mai fazzoletti per fortuna non mi ammalo non mi raffreddo quasi mai quindi quindi a causa di ciò se mi doveste incontrare per strada e chiedermi un fazzoletto io potrei non darvene mai perché non ne ho mai dietro il mio compagno però soffre di allergie a sinusite e riniti vari ed eventuali quindi comunque ne usiamo tantissimi ne usa lui tantissimi adesso inizieranno tutte vi mostrerò tutta una serie di mini size che ho acquistato appunto in previsione della della vacanza in montagna allora io di base avevo delle piccole boccettine e alcune le utilizzerò per esempio per il detergente viso e l'olio struccante tuttavia le mini size che avevo io non erano abbastanza grandi per contenere al loro interno i liquidi necessari per una settimana quindi ho preferito acquistarli e quando poi avrò finito i prodotti e lavarli e appunto conservarli nella speranza di poter andare di nuovo in vacanza presto e ve li mostro il primo è questo shampoo qui mannaggia ma perché non si vede nulla nulla vabbè questo shampoo qui della marca Ecos è shampoo per capelli secchi e sfibrati ecobio mandorla dolce biologica plastica riciclata questo qui è un 100 ml che mi permetterà di lavare i capelli per tutto il tempo insomma della della vacanza perché comunque non tendo ad usare tanto troppo shampoo dovessi anche avere la necessità di lavare i capelli ogni giorno o un giorno sì o un giorno no perché magari sudo durante le escursioni i capelli i capelli avranno comunque una base pulita per cui basterà davvero poco prodotto e poi sono anche curiosa di provare questi marchi per capelli biologici perché se mi troppo bene magari potrei pensare di acquistare le taglie grandi per casa il prossimo prodotto è sempre della stessa linea quindi sempre marca Ecos inizio a pensare che sia abbannata la videocamera ed è un balsamo per capelli all'aloe biologica è districante io di norma utilizzo la crema non la maschera non il balsamo però appunto per evitare di portare un barattolo con la crema eccetera porto questo qui che mi serve semplicemente appunto per pettinare i capelli sotto sotto la doccia dopo di che vi mostro sempre stessa linea quindi Ecos il detergente intimo con antimicrobico naturale l'antimicrobico credo sia il timo che se non erro ha appunto proprietà antibatteriche antimicrobiche eccetera e nulla io reputo sia essenziale portare almeno nel mio caso un detergente intimo di solito non li prendo con antibatterici antimicrobici perché i batteri fanno bene a meno che qualcuno non abbia un acclarata è confermata situazione di infezione batterica tendo a non ucciderli perché comunque fanno bene ci siamo evoluti grazie ai batteri e i nostri batteri buoni sono assolutamente in grado in situazioni di normalità di contrastare quelli negativi tuttavia appunto in questo caso l'antimicrobico è naturale ed è costituito appunto dal timo biologico quindi va benissimo questo detergente ultimi due prodotti abbiamo il doccia shampoo che io utilizzerò ovviamente come come doccia schiuma alla mandorla bio della bioteca italiana doccia shampoo con estratto di mandorla bio tutti questi prodotti sono tutti vegani adesso dirò una cosa un po' antipatica da vegana che a volte mi fanno sorridere tutte quelle persone che vogliono assolutamente prodotti vegani da mettere addosso e poi si nutrono più volte al giorno di prodotti animali questa cosa mi fa un po' sorridere un giorno troverò il coraggio di affrontare l'argomento alimentazione ultimo prodotto il 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 diodorante io utilizzo di solito il tav quello classico e non voglio però portare appunto la confezione da 150 ml quindi ho preso questo questa da 50 ml al tè verde e lime questo ancora non sento il profumo perchè non l'ho non l'ho utilizzato e non lo utilizzerò prima di andare in montagna nulla ragazzi io ho finito i prodotti da mostrarvi vi ho mostrato tutto spero che questo video vi sia piaciuto nonostante io sia totalmente fuori fuoco e ci vediamo presto con un nuovo video buonanotte ciao 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 ciao